Una sorveglianza attiva su tutti i casi di bambini trattenuti in pronto soccorso o ricoverati in degenza per infezioni respiratorie in collaborazione con l'ospedale Meyer. Grazie a questo progetto di ricerca e al supporto del laboratorio di microbiologia all'ospedale San Donato di Arezzo si cerca di intercettare precocemente l'arrivo dell'epidemia del virus sinciziale che già sta portando i primi casi. La diagnosi precoce permette infatti di migliorare la cura in ospedale. Il virus è una nostra vecchia conoscenza spiega il dottor Marco Martini, direttore della pediatria. Da molti anni infatti siamo abituati ad affrontarlo nel periodo autunno-inverno e a prevenire le conseguenze in neonati fragili. I prematuri e cardiopatici da alcuni anni vengono infatti selezionati per ricevere mensilmente un anticorpo monoclonale specifico nei mesi da novembre ad aprile. Il virus è la causa principale della bronchiolite acuta, patologia infiammatoria delle basse vie aeree che colpisce particolarmente i bambini al di sotto dei 12 mesi di vita. L'infezione può essere particolarmente gravosa nei piccoli al di sotto dei sei mesi potendo causare difficoltà respiratorie e alle volte anche necessità di ricovero. Nella maggioranza dei casi il lattante viene contagiato da un fratellino o una sorellina più grande che di solito frequenta il nido o la scuola materna. I sintomi sono raffreddore e tosse, in generale senza febbre ma in grado di contagiare. Trattandosi di un virus che contagia prevalentemente per via aerea, le misure di prevenzione sono le stesse che riguardano tutti i virus respiratori. Distanziamento, mascherine e lavaggio delle mani sono quelle più importanti.